Il tema degli invasi da qualche anno è tornato particolarmente di moda, diciamo soprattutto su spinta di Ambi che da un po' di anni ha cercato di sviluppare programmi di realizzazione di nuovi invasi, cercando di ottenere risorse nazionali eccetera eccetera. Però è un tema di cui si parla sempre di più come soluzione, come la soluzione molto spesso per la mitigazione degli impatti di cambiamenti climatici e crisi idriche. Dietro c'è un po' l'idea di fondo che un invaso multiobiettivo possa essere un po' la panacea che ci garantisce di risolvere tutta una serie molto ampia di problemi. Questo è in parte vero, ma solo in parte. Nel senso che l'idea stessa di invaso multiobiettivo è un po' un mito. Un invaso certo può contribuire a diversi obiettivi, turismo, mitigazione del rischio di alluvioni, uso dell'acqua fino ad idroelettrici, agricoltura, uso idropotabile eccetera. Ma questi obiettivi sono molto spesso tra loro in conflitto. Quindi non si possono raggiungere tutti allo stesso modo. E anche ottimizzando la gestione dell'invaso, quindi anche applicando dei modelli di ottimizzazione che sono un tema piuttosto complesso dal punto di vista operativo, poi alla fine è necessaria un'ampia dose di compromesso tra questi obiettivi. Quindi questo è importante sottolinearlo. Con effetti sull'ecosistema fluviale, anche se ultimamente si parla molto di invasi anche per sostenere le necessità ambientali, che è un po' una contraddizione spesso di costruire ulteriore infrastrutturazione sul sistema fluviale per ridurre gli impatti, con effetti sull'ecosistema fluviale che sono significativi. Punto di partenza, c'è lo stato attuale, se non so se l'autorità di Bacino abbia già in mano l'aggiornamento dello stato ecologico da utilizzare nel nuovo piano di gestione, insomma quello che dovrebbe chiudersi a fine anno, però dubito insomma che la situazione sia migliorata molto rispetto a un quadro di sostanziale non miglioramento e si resta molto lontani dagli obiettivi di qualità dei corpi idrici non solo in Italia ma anche a scala europea e questo è un po' il punto di partenza. Qual è il ruolo degli invasi, degli sbarramenti fluviali in tutto questo? Un progetto recente ha appena cercato di fare un censimento a livello europeo che è ancora piuttosto parziale. In Europa ci sono almeno un milione di sbarramenti lungo i corsi d'acqua, ma probabilmente sono decisamente di più perché come vedete mancano diverse aree all'interno di questo censimento e il livello di approfondimento è stato diverso. Comunque è un fattore di pressione particolarmente significativo. Pochi giorni fa proprio l'Agenzia per l'Ambiente Europea ha pubblicato un report su questo, sul ruolo delle barriere, delle interruzioni alla continuità del corso d'acqua sugli ecosistemi fluviali. È piuttosto interessante, si fa una disamina dei diversi impatti. In estrema sintesi la conclusione di questo report è che la realizzazione, la presenza di sbarramenti è un fattore di pressione significativo almeno in un terzo, nel 30% di corpi idrici europei. E in almeno il 20% di tutti i corpi idrici europei, la presenza di sbarramenti è il motivo principale per il non raggiungimento del buono stato ecologico. Quindi, insomma, una questione da tenere sicuramente in forte considerazione. Perché? Vado velocemente su una cosa abbastanza ovvia, però innanzitutto per l'alterazione della connettività longitudinale per la fauna ittica. Quindi la frammentazione per gli spostamenti necessari alla fauna ittica. Su questo ci sono dati recenti, insomma, sintesi recenti a livello europeo che ci dicono che questa frammentazione si riscontra poi rispetto a un declino del numero di specie ittiche in molti bacini fluviali. Cioè, confrontando la fotografia a distanza di decenni, si vede che sono scomparse molte specie a causa della presenza di questi sbarramenti, della progressiva frammentazione del sistema. Cosa che ha portato già da diverso tempo in alcuni paesi a fare fortissimi investimenti per cercare di ripristinare questa continuità? Tra un paese e l'altro ci sono diverse differenze, ma ad esempio in Francia, già da un paio di decenni ci sono programmi a livello nazionale e distrettuale proprio per il ripristino della continuità relativamente a specie specifiche anche. Un programma essere molto costoso, molto complesso, diciamo, tornare indietro è molto complicato. Va tenuto conto anche del fatto che la realizzazione di passaggi per pesci non è una soluzione così efficace. Cioè, un passaggio per pesci ha un'efficacia per il transito della fauna solo parziale. E soprattutto la possibilità di passaggio è variabile a seconda della specie, dello stadio, dell'età, del pesce, del contesto. Quindi non posso pensare che costruendo una serie di passaggi ripristini la mobilità come era prima della realizzazione delle opere. Tutto il tema della connettività longitudinale per i sedimenti, ma veloce perché ne abbiamo già parlato più volte, no? Quindi la presenza di nuove dighe crea un problema ulteriore rispetto alla connettività longitudinale, sia per il trasporto a soli dal fondo che per quello in sospensione. Questo la passo velocemente, ne ha già parlato ampiamente Andrea, quindi uno dei motivi forti per cui si è arrivata un'alterazione morfologica e un sostanziale cambiamento generale delle configurazioni morfologiche di corsi d'acqua è la presenza di sbarramenti invasi, con effetti di diverso tipo, sia economici, sia ambientali. E poi tutto il tema della gestione dei sedimenti fini, degli svasi, quindi degli impatti legati al fatto che il trasporto a soli in sospensione, invece che essere molto continuo nel tempo, diventa puntuale nel momento in cui effetto uno svaso. Quindi ogni volta che penso di realizzare un nuovo invaso, devo tenere conto che poi dovrò affrontare problematiche legate a entrambe le tipologie di trasporto. Come si diceva prima, appunto una gestione anche degli invasi deve inquadrarsi all'interno dei programmi di gestione dei sedimenti. Ne abbiamo già parlato e discusso prima, quindi passo ulteriormente avanti. Ci sono dei contesti territoriali in cui questi programmi di gestione dei sedimenti hanno anticipato la normativa e quindi in cui già siamo alla revisione del programma di gestione dei sedimenti, cosa che sta portando anche a interventi di riqualificazione importanti. Quindi in territori che si affacciano alla realizzazione di questi programmi, ci sono esempi significativi a cui guardare. Un altro tema di rilievo nella gestione di invasi esistenti e nuovi è quella della normativa sulla gestione degli invasi. Siamo da molto tempo in attesa della revisione del decreto sulla gestione degli invasi. Bozza già, credo, pronta da un paio d'anni. Anche noi abbiamo contribuito alla revisione della normativa precedente come CIRF. In sintesi, questa nuova normativa dovrebbe ricollegarsi anche agli obblighi complessivi della direttiva quadroacque e alle nuove previsioni legate al programma di gestione dei sedimenti. Cioè, mentre la normativa precedente si occupa fondamentalmente di mitigare l'impatto degli svasi e quindi l'impatto della gestione dei sedimenti fini, nella nuova normativa che speriamo che sia pubblicata a breve, la gestione da parte dei privati degli invasi diventa anche uno strumento di riqualificazione morfologica e quindi bisogna occuparsi anche di come gestire e ripristinare la continuità del trasporto storico dal fondo di cui parlavamo prima. Un tema che, anche in un quadro diciamo più avanzato come questo, è comunque tecnicamente complesso da gestire. Noi, in questo progetto che vi citavo prima, abbiamo analizzato diversi casi studio di questo tipo, alcuni particolarmente interessanti, come quello di DODF, che sta facendo degli interventi sperimentali, tra cui questo sul FIMEBUSH, proprio per cercare di fare in modo che la gestione dei sedimenti nelle loro dighe diventi il più trasparente possibile, cioè che tutto il materiale solido grossolano che arriva all'interno dell'invaso possa transitare a valle grazie a un'adeguata gestione, quindi all'apertura delle opere al fondo per determinate portate e la reintroduzione meccanica per compensare il fatto che non tutto il materiale può passare solo aprendo le opere al fondo. è un ambito ancora piuttosto sperimentale, diciamo, che però determina anche costi gestionali e un impegno molto forte da parte di DODF, che ha classificato tutte le sue dighe e i suoi sbarramenti sulla base proprio della trasparenza al trasporto solido al fondo, perché in Francia gli obblighi di questo tipo sono arrivati prima che da noi e quindi stanno pian pianino adeguandosi. Questo per dire che è un tema tecnicamente fattibile, ma molto complesso e oneroso, se si vuole fare in modo che un invaso non diventi un ulteriore sbarramento al trasporto solido con tutti i problemi che abbiamo visto prima. Poi chiaramente uno dei fattori di pressione principali è l'alterazione del regime idrologico. Su questo quello che mi preme dire, appunto, è che non parliamo solo delle portate minime, ma per definizione l'accumulo di portate in un invaso va ad alterare tutta una serie di componenti del regime idrologico che sono altrettanto importanti per l'ecosistema fluviale. Questo è certificato anche dal metodo italiano per la valutazione della qualità idrologica dei corsi d'acqua che è basato su questo indice internazionale riconosciuto da tempo, cioè che riconosce che ci sono diversi aspetti che vanno mantenuti per mitigare l'impatto sul regime idrologico. Quindi la quantità di acqua che in media transita in un certo periodo, ma anche, ad esempio, la durata di certi livelli, quindi la portata di morbida, quanto dura, i picchi di piena o di magra, quanto durano, quando avvengono. Cioè il fatto di spostare nel tempo, nell'anno, certe caratteristiche della portata, chiaramente va ad alterare una forzante del sistema fisico e quindi è un impatto. E questo per definizione lo fa, l'accumulo di acqua in un invaso, è proprio quello che vuole fare, spostare il transito di portata da un certo periodo a un anno, a un altro. La frequenza delle variazioni di portata, quanto velocemente cambiano, tutti questi aspetti vanno tenuti in considerazione per definire quello che appunto è il deflusso ecologico. Oggi a valle, della maggior parte delle derivazioni, abbiamo una portata che è sostanzialmente costante per buona parte dell'anno e che spesso va a tagliare non solo appunto le portate di magra, ma anche le portate di piena, che hanno un ruolo formativo fondamentale, no? Quando prima Andrea diceva che l'alterazione, diciamo, della piovosità ha determinato degli effetti morfologici, ha maggior ragione se andiamo a realizzare un invaso che va a tagliare dei picchi di piena, questo avrà sicuramente un impatto sull'evoluzione morfologica a valle. In caso di produzione di picco energetica c'è poi tutto il tema dell'hydropicking, no? Cioè di un'alterazione della portata a scala temporale molto più ridotta che determina tutta una serie di passaggi da portata di una piccola pienetta a portata di base un paio di volte al giorno, di solito tutti i giorni, che ha tutta una serie di effetti ecologici molto importanti, lo spiaggiamento, l'alterazione della granometria, eccetera, eccetera. Qui un altro tema che si crea ogni volta in cui io realizzo un invaso che poi va a produrre energia idroelettrica. Tutte questioni che fanno parte delle discussioni in corso per l'applicazione del decreto italiano, insomma del Ministero dell'Ambiente sul deflusso ecologico, che poi dà risposta, diciamo, alle linee guida europee. tema piuttosto complesso che al di là, insomma, dei diversi metodi che nei distretti si stanno attuando, poi del passaggio dalla teoria, dai calcoli teorici alla realtà, un po' in tutta Italia, insomma, io sto seguendo un po' di questi percorsi, sono estremamente conflittuali, perché la situazione è che comunque oggi siamo lontanissimi dai livelli che con le metodologie, diciamo, ecologiche consolidate si vanno poi a determinare. Questo è un percorso piuttosto complesso. Altre, diciamo, tipologie di pressione legate agli invasi sono connesse all'accumulo di sedimenti fini, che necessariamente si va a determinare a monte dell'opera, e quindi l'accumulo di inquinanti, che dipende chiaramente dal tipo di uso del suolo, al tipo di caratteristiche dei sedimenti che si vanno a accumulare nello specifico bacino. Però molto spesso, comunque, c'è un'alterazione fisico-chimica, oltre che termica, dell'acqua rilasciata, che non è facile mitigare. E poi l'evaporazione. Quindi io accumulo acqua all'interno di un invaso, però ne perdo più di quella che potrei perdere in assenza di questo invaso, a causa dell'aumento di evaporazione dallo specchio d'acqua. Tutta una serie di problematiche che fanno dire a molti che forse un posto più adeguato dove stoccare l'acqua è la falda, più che nuovi invasi. O comunque che va valutato attentamente anche tutta una serie di altre alternative quando serve accumulare risorsa idrica oltre agli invasi. Tralascio il tema della ricarica artificiale della falda su cui il consorzio sicuramente sta lavorando e ne avrete probabilmente già discusso. Sottolineo un paio di connessioni. Innanzitutto con il consumo di suolo. Quindi se io all'interno di un bacino ho un processo in corso comunque di aumento del consumo di suolo, questo mi determina una perdita netta dell'alimentazione della falda. Io ho riportato un grafico di un studio recente nella zona d'abito io in Veneto dove si vede che solo l'aumento di permeabilizzazione del suolo del 2016 ha causato una perdita di un milione di metri cubi di alimentazione della falda acquifera. Quindi sono numeri che portati a scala di bacino possono diventare importanti. L'altro tema di cui ogni tanto si parla insomma con alti e bassi è quello del contenuto di sostanza organica nel suolo. Non so quanto sia rilevante in questo bacino ma lo è insomma a scala a scala più più globale. Qui la questione è che un suolo con più sostanza organica va a determinare una microstruttura più porosa e con una capacità di accumulo senza saturazione del suolo e quindi garantisce sia una maggiore infiltrazione sia una maggior disponibilità di acqua prolungata nel tempo. Questo visti i tempi ve lo passo insomma ci sono diversi video degli USDA americano che fanno vedere in pratica il comportamento di suoli più o meno ricchi di sostanza organica ed è evidente il beneficio diciamo di un suolo più ricco di sostanza organica. per dare qualche numero l'incremento dell'1% in sostanza organica di un suolo può garantire un aumento di quasi 300 metri cubi per ettaro di acqua accumulata. Qui sono tutti il tema dell'agricoltura conservativa eccetera eccetera diverse questioni quindi che sono sinergiche tra loro quindi lavorando anche solo sulla sostanza organica del suolo si può ridurre l'erosione quindi minore turbidità minore rapporto di nutrienti aumentare la capacità di laminazione anche ai fini delle piene quindi trattengo più acqua ho bisogno di apporto esterno minore di acqua durante il periodo di domanda in rigua e alimento maggiormente le falde. Insomma una questione di cui si parla poco in relazione a questi temi ma che in realtà è strettamente connessa da cui diverse campagne proprio per l'aumento della sostanza organica nel suolo. Un altro tema che secondo noi dovrebbe essere maggiormente analizzato è quello della connettività laterale o per disconnessione diretta quindi in presenza di argini o retta legata all'incisione il fatto che le piene rinondabili vengono inondate meno di frequente determina anche un minore contributo alla ricarica della falda quindi un tema che non è detto che sempre sia rilevante ci sono un po' di calcoli insomma su questo su questo tema ma a nostro avviso varrebbe bene di approfondire maggiormente quindi per capire di che numeri stiamo parlando e quanto in certi contesti probabilmente non in questo del Cecina insomma che è poco artificializzato ma in altri contesti possa determinare un contributo rilevante eventualmente anche in aggiunta a interventi di ricarica artificiale della falda la questione che anche qui insomma abbiamo riscontrato altrove spesso cosa succede che in un contesto di incisione degli alvei e quindi di maggiore possibilità di utilizzo di pianure che prima erano inondate molto di frequente un effetto collaterale è quello che aumenta anche la domanda di irriguano questo è un esempio dell'adige in cui queste prime erano pianure molto spesso inondate o molto meno spesso e quindi c'è stata una proliferazione di vignetti addirittura irrigui e quindi una zona che prima contribuiva alla ricarica della falda e adesso invece contribuisce ad aumentare sostanzialmente la domanda irrigua un'ultima nota sulla cronaca nel senso che all'interno del piano nazionale di recupero e resilienza insomma del recovery fund uno degli elementi che sembra che non si sposti da un po' di tempo è quello della realizzazione di nuovi invasi è una voce all'interno della gestione dei corsi d'acqua a gestione delle acque che sembra destinata ad esserci ricordiamo anche che nelle linee guida del Parlamento per la definizione del PNRR c'è invece ampio spazio a tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi quindi il Parlamento chiede al governo di inserire all'interno del piano specifici fondi proprio per l'attuazione di tutte le misure integrate di cui abbiamo parlato oggi quindi riduzione del rischio idrogeologico ma allocando fondi per ripristino morfologico recupero della connettività eccetera quindi ecco una parte che ci aspettiamo che debba essere introdotta poi effettivamente nelle misure nelle linee di finanziamento di questo piano e che ad oggi dialoga abbastanza poco con la componente invece che però si occupa solo di realizzare nuovi invasi e di realizzare nuove opere sostanzialmente queste previsioni del Parlamento fanno riferimento esplicito anche a quelli che sono nuovi obiettivi dell'Unione Europea sulla biodiversità non la strategia o è sulla biodiversità per il 2030 contiene diversi obiettivi tra cui uno di quelli importanti è quello di ripristinare almeno 25.000 chilometri di fiumi a scorrimento libero cioè ripristinare la connettività di fatto di almeno 25.000 chilometri di fiumi il che vuol dire che noi come Italia dovremmo ripristinarne almeno un migliaio diciamo facendo dei conti approssimativi questo per dire che realizzare nuovi invasi in questo contesto richiede qualche considerazione aggiuntiva diciamo proprio perché siamo in una fase in cui gli obiettivi strategici europei ci richiederebbero in realtà di fare il contrario e quindi di iniziare anche noi a rimuovere sbarramenti di diverse dimensioni e tipo partendo da quelli chiaramente da quelli non necessari o non più necessari o obsoleti o che creano più problemi di sicurezza di quelli che diciamo contribuiscono a migliorare con tutta una serie di diciamo programmi e attività di raccolta di casi studio che sta diventando sempre più diffusa a livello europeo e cominciano a esserci anche interessanti casi italiani adesso non sto a descriverlo nel dettaglio ma insomma se guardate sul nostro sito c'è tutta una serie di materiali video e di valutazioni dei risultati del monitoraggio di questo progetto interessante sulla Talvera in cui nel giro di diversi anni sono stati rimossi sia piccoli ostacoli quindi soglie per ripressionare la connettività per la fauna ittica sia ostacoli più grandi quindi si inizia a mettere in discussione un certo assetto della difesa del suolo che ha diciamo ha creato molti danni soprattutto rispetto alla continuità dei sedimenti quindi anche certe tipologie di opere che trattengono completamente i sedimenti si stanno mettendo in discussione quindi in questo caso ad esempio sono state rimosse delle briglie non filtranti e ne è stata realizzata solo una completamente filtrante quindi che garantisce il transito sia per la fauna ittica sia per i sedimenti questo per dire appunto che ci sono diverse tipologie di soluzioni e che in alcuni casi c'è anche modo di realizzare opere che determinino meno impatti su tutti quegli aspetti che abbiamo visto oggi ma che comunque ecco più in generale realizzare un nuovo invaso richiede una serie di valutazioni piuttosto ampia ecco e i possibili aspetti negativi soprattutto in un contesto come quello che abbiamo descritto di stato ecologico e di pressioni accumulate molto abbondanti piuttosto problematico ecco da superare io finisco qui sperando di aver lasciato un po' di spazio per per la discussione finale grazie Andrea credo sia stato utile affrontare tutta questa serie di questioni ci hai fatto un quadro abbastanza piuttosto esaustivo direi di quelle che sono le problematiche io lascerei la parola a voi visto che gli argomenti che abbiamo trattato sono piuttosto importanti nell'ambito del bacino del Cecino quindi lascerei la parola ai eventuali considerazioni domande commenti grazie a tutti